buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video cercheremo di proporvi dei consigli delle idee delle tecniche da usare in pirografia l'utilizzo del pirografo classico è quello su legno possiamo lavorare su legni impegnativi come ulivo castagno rovere oppure anche legni compensati anche con le cassette della frutta di legno si possono recuperare si possono pulire con della carta vetrata e si possono utilizzare per pirografare possiamo utilizzare anche un sottopentola in materiale sughero questa è un'idea si può utilizzare il sughero e si può decorare un bel sottopentola il pirografo è utilizzato anche per altre tecniche per lavorare sul feltro su alcune resine però in questo video noi vi proporremo l'utilizzo classico del pirografo su legno qui vi proponiamo alcuni lavori già realizzati e alcune idee è possibile decorare una scatoletta dove riporremo i nostri oggetti è possibile scrivere dei nomi col pirografo è possibile decorare dei pannelli qui vediamo una rosa la maggior parte dei disegni proposti in questo video sono stati ricalcati quindi non dobbiamo essere degli artisti nati dei bravi disegnatori questo ci aiuta questo è positivo se siamo già dei bravi disegnatori però ci si aiuta anche con della carta carbone con delle immagini già realizzate e si vanno a ricopiare vengono trasferite sul legno per poi utilizzare il pirografo questa è una prima tecnica da utilizzare in pirografia possiamo anche usare degli stencil invece di utilizzare la carta carbone e un disegno già fatto possiamo usare degli stencil e riportare il disegno a matita sempre sul legno che vogliamo poi periografare vedete questo cucchiaio da cucina abbiamo utilizzato uno stencil per decorarlo vedete un motivo con fiori come dicevamo prima il pirografo lavora su tutti i legni quindi possiamo andare sull'olivo sul castagno sul rovere ma anche sul semplice compensato compensato un altro materiale che può essere utilizzato in pirografia è il cuoio qui vediamo il sughero e vediamo del cuoio qui sopra invece vediamo uno stencil utilizzato per decorare questo sottopentola in sughero queste immagini invece sono state tutte ricalcate prima con la carta carbone e con un'immagine originale e dopo abbiamo utilizzato il pirografo per realizzare la nostra pirografia qui vediamo tutti i materiali che utilizziamo la carta carbone la carta vetrata per pulire la pulizia del legno è fondamentale occorre sempre pulire il legno prima di iniziare una lavorazione in pirografia più la carta è sottile e migliore poi sarà il lavoro che andiamo a fare al netto della nostra tecnica della nostra bravura però è importante pulire in modo preciso il legno con una carta vetrata molto ma molto sottile ecco qui stiamo pulendo il legno il nostro legno compensato con della carta vetrata più la carta vetrata è sottile e meglio è questo vale soprattutto se utilizziamo anche legni recuperati la pirografia si presta a utilizzare legni che abbiamo in giro che troviamo prima vi dicevo l'utilizzo delle casse dove si mette la frutta e la verdura le casse di legno ma si possono utilizzare anche altre soluzioni pezzi di legno qualsiasi basta che abbiano la dimensione esatta per poter metterci un disegno poter riportare un disegno una fotografia un'immagine ed è un'idea molto valida di utilizzare del legno non nuovo ma recuperato adesso dopo aver preparato il nostro legno riportiamo un'immagine con carta carbone sul pezzetto di legno che poi vorremmo pirografare prima si mette la carta carbone poi il disegno da riportare e con una matita seguiamo il nostro disegno originale è possibile riportare un disegno in modo preciso con tanti dettagli oppure riportare un disegno con alcuni tratti fondamentali e poi si deciderà di lavorare principalmente a mano libera ecco qui un'altra immagine e sempre nello stesso modo prima carta carbone poi l'immagine e poi con la matita riportiamo il disegno in passato l'utilizzo della carta carbone era molto diffuso carta carbone ho detto anche carta copiativa adesso è meno diffuso l'utilizzo della carta carbone ma comunque si trova si trova in cartoleria senza nessun problema continuiamo continuiamo nel riportare il disegno in questo caso il disegno verrà riportato in modo preciso in modo preciso Grazie a tutti. Ecco qui il disegno riportato sul nostro pezzo di legno. Adesso il disegno è pronto per essere pirografato. Il pezzo di legno è pronto per essere pirografato. Adesso vediamo il pirografo senza punte. Quindi prima di iniziare a lavorare occorre inserire la punta che vorremmo utilizzare. Noi consigliamo una punta media, un tratto medio, è una buona idea. Comunque ci sono tante punte per fare varie prove e per trovare le varie soluzioni in base alle proprie esigenze, in base a che tipo di decorazione vogliamo effettuare. Dopo aver inserito la punta, bisogna inserire la spina nella presa, aspettare alcuni minuti che si scaldi e se è pronti per lavorare. Una buona idea è avere sempre un pezzo di legno dove verificare se la punta è calda. Quindi si tiene un pezzo di legno dove si fanno tutte le varie prove. Qui vediamo che il pirografo non è ancora caldo. Aspettiamo ancora qualche minuto ed eccoci qua. Va utilizzato come se fosse un pennarello, una matita. Vedete? Come se uno avesse già il disegno sotto e deve andare a ricalcarlo, a seguirlo. Il tratto può essere più evidente se premiamo maggiormente oppure più leggero. Si possono fare anche le sfumature. Qui abbiamo cambiato disegno, abbiamo cambiato motivo. Ed è possibile effettuare delle sfumature seguendo il disegno già fatto e se premiamo molto il tratto sarà maggiore, otterremo un effetto più scuro. Mentre se stiamo più leggeri avremo un tratto, un disegno più chiaro. Spesso chi non ha mai pirografato tende a lavorare diciamo in modo veloce invece conviene andare abbastanza lenti magari con un tratto leggero ma comunque lenti. altrimenti rischiamo di creare dei grumi, dei pallini quindi consigliamo una velocità abbastanza lenta. prima di salutarvi vi proponiamo un altro modo per riportare un disegno, una scritta su un pezzo di legno in questo caso utilizziamo uno stencil quindi prima abbiamo visto la tecnica con la carta carbone adesso utilizziamo uno stencil vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo con un nostro nuovo video buona pirografia a tutti a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti